Si fanno più stringenti i servizi di controllo della sicurezza a Catania in vista delle celebrazioni a Gatine. Per la prima volta all'ingresso della cattedrale verranno installati due metal detector. Rispettiamo le regole, saranno fatti dei controlli particolari, visto il momento, però ecco, quello che è importante è pensiamo alla religiosità della nostra santa. Pronto anche il Fercolo, che è stato recentemente collaudato e messo in sicurezza, mentre Monsignor Barbaro Scionti ha annunciato che in occasione del Giubileo della Misericordia sarà celebrato lo speciale Giubileo dei Devoti. Il 4 febbraio, durante la Messa dell'Aurora, verrà impartita la benedizione papale con indulgenza plenaria.